L'Icusati Web TV c'è e quando c'è l'Icusati Web TV significa che l'evento è importante, l'evento come sempre ripreso via web per farvi vivere l'emozione della nostra gara, il ritorno di un appuntamento tanto atteso, una vacanza lunga qualche anno, ma l'emozione torna, ne ricordo di Mario Serbi. Ragazzi mancheranno 9 minuti, c'è il genio, Carmine lo aspettiamo, nonostante i problemi grossi dalla macchina, i suoi splendidi figlioli, e Sarelle Palomba in gara a rappresentare tutto il movimento femminile, tante le ragazze che si vanno protagonisti insieme a noi, lo saluto ad Andrea Fontanella, il 15 marzo sfiderà la gara dalle mie parti, Castellammare Vigo dietro. La famiglia di potistidoc.it c'è, non poteva, non doveva mancare, Franco Manno, Ignazio, Gerardo Piccirillo alla partenza, abbinati i ragazzi di Salerno, il team Amico Salerno e 42K che sono insieme a noi. Ragazzi che ho il piacere di allenare, così come in tanti sono qui a caratterizzare anche il mio team di atleti, c'è anche Antonio Lino Sateriale, che sarà dei protagonisti della gara maschile, e è il momento di puntualizzare la fase di riscaldamento, c'è un segno di via. A buona sottolineatura musicale, come ci so che sia, perché festa è qui a Cava, per il ritorno della gara, per il ricordo splendido di Mario Siepi, come dicevo poco fa, Antonio, il figlio, compettorale numero uno. Allora ragazzi, il nome Giure, non ne è volato proprio la 34.10 seconda per via, e la 32.10 seconda per via, per la 32.10 seconda per via, un pernale di ragazzi, semplicemente migliore, come la 33.10 seconda per via, ma 34.15 seconda per via, signora, 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 Allora, signora, 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 signora Grazie a tutti 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 Grazie a tutti